Da qualche giorno Shaila è andata insieme a Lorenzo al Grande Fratello Spagnolo e ora ha fatto alcune dichiarazioni importanti. Il suo ritorno in Italia si sta avvicinando a grandi passi e i suoi timori stanno aumentando in maniera esponenziale, e lei ha rivelato per quale ragione sta avendo paura di ricominciare a riprendere l'avventura nella casa più spiata d'Italia nostrana. Shaila, durante una confidenza al Grande Fratello Iberico, è stata chiarissima e non c'è bisogno quindi di alcuna precisazione ulteriore. Sicuramente ha vissuto giorni indimenticabili con Lorenzo, ma dovrà adesso concentrarsi per l'imminente ritorno nel programma condotto da Alfonso Signorini. Grande Fratello, Shaila ha paura di tornare in Italia e spiega il perché. Parlando del suo rapporto con Lorenzo, al Grande Fratello Shaila ha dichiarato nelle scorse ore, quando una persona ti piace veramente, non riesci a fermarti. Il corpo lo chiede con Lorenzo è così, durante un confessionale, il modello ha aggiunto, l'ho desiderato tanto e finalmente ora possiamo viverci. Da quando sono nella versione spagnola del GF, non hanno praticamente mai smesso di scambiarsi effusioni, baci e non solo. Ma lunedì 28 ottobre, come ricordato dal sito Blasting News, Shaila e Lorenzo faranno rientro nel GF italiano e questo spaventa non poco l'ex velina di Striscia la notizia. Ho una gran paura di rientrare nella casa, sono scomoda per gli altri. Io non posso fare altro che spiegare, poi se gli altri vorranno crederci bene, altrimenti non mi interessa. Sicuramente per Shaila e Lorenzo si paleseranno davanti a loro dei confronti con Aviere e Ellen. Questi ultimi vorranno capire come mai ci sia stato questo cambiamento repentino nel rapporto tra i due piccioncini e non mancheranno polemiche.